martedì 21 aprile 2020 siamo sempre su cper tv sempre chiusi in casa sempre con i voti casalinghi oggi caino 12 minuti un wrap un ladder 5 10 15 20 e così via gto odd object cioè dei ground overhead con degli oggetti che riuscite a trovare quello che volete e dei v-app tutto per oggi a domani